non si può giocare così però dobbiamo aumentare l'intensità altrimenti qua rischiamo di perderla ecco qua per fortuna il portiere la prende prendetela prendetela cazzo attenzione al como spazzate la via che è finito il primo tempo spazzate la via finisce a quel primo tempo 1-0 vediamo se in questo secondo tempo posso dare di più a a a a a a a a a attenzione perché già c'è il primo errore difensivo c'è il como la palla è ancora lì attenzione perché ancora non è finita l'azione c'è la difesa però l'azione ancora del como c'è ancora il portiere è ancora io me ne vado qua sulla fascia mi vede attenzione perché posso saltarli posso saltarli ok ne salto uno ne salto due ma non il terzo purtroppo attenzione al como tiro molto brutto va passamela passamela vediamo cosa mi posso inventare ci posso provare il portiere me la para il portiere me la para il portiere me la para porca trovi attenzione attenzione di nuovo il portiere c'è portiere migliore in campo oggi vediamo se riesco a saltarlo cosa mi posso inventare non lo so l'ho saltato intanto attenzione me ne entro in aria ci posso provare da qui attenzione no era una bella azione era una bella azione a fallo intanto a nostro sfavore aggiungo vabbè attenzione la mette in mezzo il como ancora di testa ci prova mamma mia stiamo soffrendo un po' molto stiamo soffrendo raga è inutile negarlo fuori gioco di sto cazzo ancora ancora attenzione pelotti ci prova vediamo se la nostra squadra riesce a fare il tiro in corto niente da fare attenzione attenzione al como perché posso ripartire la difesa nel così tanto compagno fatta attenzione verti controlla male per fortuna di testa c'è il fortuna e ne è proprio un autogosa Lo sapevo che succedeva una cosa del genere Caval si fa l'autogoll Anche se secondo me non è proprio così Possiamo costruire un'altra azione Niente da fare, niente da fare Attenzione perché la Juve ora si fa saltare come niente Si fanno saltare come Pirilli Attenzione c'è il portiere Quello non era fallo Vabbè Calciatangolo per avversari Possiamo ripartire Attenzione Vediamo se ci riesco La mette in mezzo Vediamo se ci arrivo di testa Gol L'ho segnato L'ho segnato L'ho fatto L'ho fatto di testa Si cazzo Si Ritorniamo in vantaggio dunque Grazie al mio goal che non so nemmeno come ho fatto Attenzione Si può ripartire adesso Si può ripartire adesso Il Como riparte Attenzione Attenzione la mette in mezzo Attenzione C'è la difesa C'è la difesa Spaziamo via Spaziamo via Non facciamoci rubare palla No 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 Porca troia Siamo tutti chiusi Siamo tutti chiusi Impossibile saltarne Cinque E' impossibile E' impossibile Preparate palla dai Ok perfetto Vediamo se riusciamo a costruire qualcosa Oltre alla difesa Suono Attenzione Ci posso provare C'è la difesa Cosa posso fare da questa distanza Incredibile C'è il portiere Attenzione Perché come può ripartire Può ripartire Siamo abbastanza scoperti Ora siamo coperti Però la difesa Non fa pressare la difesa Meno male che ribatte Non ci arriva la palla Se la fa rubare così Incredibile Incredibile Attenzione La mette in mezzo Per fortuna la difesa Spazza Mi passa la palla a comando Mi accentro Porca troia Porca troia Ci sono andati vicini Ci sono andati Potevamo chiuderla lì Perché non la passi Perché non la passi Ce l'ho io Che mi ero liberato Attenzione Il come ancora ci prova C'è la difesa Dobbiamo chiudere la sua partita Stiamo rischiando troppo C'è ancora la difesa Io provo A fare l'ultimo Affonto Se qualcuno si fa vedere Magari Ci Mamma mia Troppo distante Attenzione Il come ancora non c'è il rente La difesa Per fortuna Recupera Non ci posso arrivare mai Attenzione Attenzione al come che Mamma mia L'ultima azione del come probabilmente Ha rischiato Di farci pareggiare la partita Vediamo se riesciamo a fare da noi L'ultima azione adesso Ok perché posso andare in attacco Posso anche provare il tiro Fuori di poco Finisce qua La vinciamo noi 2-1 Buona da prima Verona Juventus Grazie per i complimenti Mister E io ti dimostrerò Che sono il futuro Di questa squadra Grazie per la visione